il meraviglioso mondo della finanza decentralizzata quando inizio un video non ho mai idea di che titolo metterò e quindi sparo un titolo approssimativo che poi ovviamente non torna col titolo vero allora, in questo video che sarà lunghissimo perché ne ho già registrato una parte e non finiva più e è incasinatissimo esploreremo il mondo della finanza centralizzata velocemente centralizzata intendo del mondo cripto non la finanza tradizionale perché, vabbè, quella è abbastanza standard ma soprattutto il mondo della finanza decentralizzata alla ricerca di nuove strategie di guadagno completamente bizzarre vi dico subito, questo è uno dei classici miei video che ritengo estremamente interessanti e con una visione del futuro ed è uno dei classici video che voi non vi cagate neanche di pezza perché dovete guardare tutti quanti quei video da taglio delle vene su come compilare il quadro RW, RT, RM della dichiarazione dei redditi complimenti, continuate così che vedevo di meglio pagare le tasse giuste che non fare il 100% di guadagno bene detto questo dopo la ramanzina iniziale che ormai è classica di ogni mio video iniziamo con la finanza decentralizzata cercherò di fare un video eviterò il video in cui spiego prima la teoria e poi la pratica anche se sarebbe forse la cosa migliore ma cercherò di fare un video in cui vi faccio immediatamente vedere cosa sta succedendo nel mondo della finanza decentralizzata vi do subito l'anticipazione che succedono cose stranissime spesso difficili da capire che uno si chiede anche e io me lo sto chiedendo tuttora da dove saltino fuori i soldi a un certo punto ho due piccole premesse prima di cominciare la prima il video è venuto lunghissimo perché è una materia molto lunga che si è sviluppata tanto in questo in cripto inverno dal 2018 al 2020 consiglio di guardarlo a pezzettini comunque io l'ho tratto da una serie di video ancora più lungo di The Crypto Gateway che consiglio vivamente per approfondire e la seconda in questo video vedrete investimenti con rendimenti mostruosi cioè investimenti con interessi quasi garantiti da tre cifre quattrocento per cento ecco sono investimenti da non fare o meglio sono investimenti da non fare se non avete capito a fondo gli aspetti tecnici e finanziari di quello che state facendo perché ovviamente quando un interesse è alto ci sono due motivi dietro il primo è quello che vi dirà qualunque esperto di finanza cioè che il rischio è alto quindi il rischio è che vada tutto a gambe all'aria per qualche problema tecnico o per qualche attacco hacker ben riuscito il secondo è quello che di solito gli aspetti finanziari non vi dicono ed è la barriera all'ingresso cioè queste sono tecnologie un po' difficili vedrete nell'esempio finale che io ci ho dovuto fare vari salti ho dovuto fare varie prove prima di farlo sono tecnologie che hanno una barriera all'ingresso e questo in piccola parte giustifica anche i rendimenti esagerati buona visione dovete però avere chiari alcuni concetti il primo è quello di smart contract che do per scontato sapete cos'è ma lo smart contract è stato esteso in maniera notevole ci sono di fatto smart contract che interagiscono con altri smart contract e questo non è una novità ma anche aggregatori di smart contract vale a dire uno smart contract che ne gestisce tanti altri quindi diventa in questo modo anche versatile smart contract che può essere anche cambiato dalle persone che hanno delle quote all'interno dello smart contract quindi con questi smart contract si può fare di tutto se dopo che io ho ripetuto dieci volte smart contract ancora non sapete cos'è il resto del video potete anche non guardarlo perché vedrete delle cose che per voi saranno delle cose banali perché la cosa interessante è che sono tutte gestite da smart contract cioè non c'è un'azienda dietro lo dirò comunque almeno 75 volte nel resto del video la seconda cosa che dovete sapere è che nel mondo cripto ci sono le stable coin che di fatto sono uno dei pilastri al momento della finanza decentralizzata e si tratta di criptovalute che cercano di essere stabili di solito col dollaro ce ne sono anche di pegate si dice dal verbo inglese to peg che penso che voglia di si usi per le bar che quando si attaccano a un palo e non si muovono da quel palo o cose del genere dunque sono pegate al dollaro difficile trovarle pegate ad altre valute soprattutto anche all'ero l'ero è una delle più difficili di trovarle non so perché la prima è stata il famoso tether su cui io devo dire la verità ho sputato veleno per anni e adesso ne sono uno dei principali acquirenti tether è garantito da Bitfinex cioè c'è Bitfinex questo exchange che ci garantisce che loro ci scambieranno sempre un dollaro per un tether ce lo garantisce lui ha subito degli audit ma io non me ne intendo assolutamente niente di audit leggo sono degli audit la gente non si fida di questi audit però ne ha fatti di audit e sicuramente questo ve lo assicuro col cuore non è che hanno delle mazzette da un dollaro lì pronte per coprire tutto quello che hanno emesso in tether ce ne sono altre c'è USDC c'è il Binance US o qualcosa del genere e c'è un'altra famosa che è il DAI che è più più del mondo crypto cioè si appoggia ad altre criptovalute stabili comunque di solito le tre i tre cardini delle stable coin le criptovalute stabili sono il tether che è USDT l'USDC e il DAI sono le tre cardini quelli che sono considerate ce ne sono tantissime altre le vedremo questi però sono i tre cardini perché sono importanti perché vedrete danno i tassi di interesse che fanno fanno ridere guardando i tassi di interesse che dà il dollaro o l'euro attualmente l'altro concetto che dobbiamo capire è la differenza tra SEFI e DEFI SEFI è la centralized finance la finanza centralizzata e DEFI la finanza decentralizzata nel mondo crypto sono due cose molto diverse anche se forse agli occhi di uno che non se ne intende sembra la stessa cosa cioè ci sono delle aziende che offrono più o meno gli stessi servizi degli servizi di finanza decentralizzata ma li offrono in maniera migliore più appealing il sito web funziona meglio si capisce quello che si fa perché spesso in finanza decentralizzata io vedo delle cose e non capisco cosa siano sono scritte in un linguaggio criptico sapete i programmatori gli informatici che sono quelli che di fatto alla fine gestiscono queste cose hanno questa abitudine di scrivere in un linguaggio per iniziati in cui finché non sei dentro da almeno sei mesi non capisci assolutamente nulla invece il mondo è la finanza centralizzata di cui magari possiamo vedere anche qualche esempio che ci sono anche qui i siti classici crypto.com e Silcius 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 Network è questo? sì Silcius Network che si chiama Network ma è centralizzatissimo e poi vabbè c'è BlockFi ad esempio YouHodler e c'è anche Nexo Finance direi che li ho praticamente enunciati tutti dov'è Nexo Finance? eccolo qui li ho enunciati tutti crypto.com Silcius qual è questo? come si chiama? BlockFi YouHodler e Nexo Finance e sono dei siti che fanno numerose attività essere un piccolo exchange è una di queste ma di solito non si concentrano cioè non è il loro core business e il loro core business spesso è l'attività di prestito e deposito vediamone uno a caso quello che al momento offre i migliori rendimenti ma ce ne sono tanti altri che offrono rendimenti buoni crypto.com ecco qui crypto.com offre anche tutta una serie di carte di credito di cui ho fatto un video che vedrete da qualche parte e le famose metal visa cards ma adesso andiamo a vedere il crypto earn ok? ignorate il DeFi anche lui ha il suo sistema di DeFi ma al momento ci concentriamo sulla parleremo del primo pezzo del video della SeFi andiamo su questo crypto earn vedete già subito un tasso di interesse scioccante 14,5 nel momento che faccio questo video il miglior conto deposito italiano flessibile offre il mezzo per cento quello meno flessibile offre l'un per cento redditoni eh 14,5 quelli americani un po' di più ma 14,5 non ci avvicinano nemmeno vediamo un po' dove 14,5 perché di solito la pubblicità di questi siti tira un po' all'inganno ecco qui vediamo innanzitutto ecco qui dovete stabilire se lo volete flexible per un mese o per tre mesi non è previsto oltre tre mesi rimaniamo su flexible poi che tipo di carta di credito avete se non avete nessuna carta di credito loro quindi proprio il caso pezzenteria ok vedete vi da un 6% su SD coin un 6% su Tether un 6% su DAI vi da un 6% di interesse che non è da buttare via ma basta avere la loro carta di credito quella che onestamente consiglio perché se avete un minimo di soldi questa carta di credito che il suo cashback i suoi guadagni è veramente conveniente e volevo ad esempio mettere per tre mesi ed ecco che salta al 12% 12% sulle stable coin sulle valute non stabili cambia un po' e scende di molto anche bitcoin 6,5 ethereum 6,5 e ripeto è forse il sito che dà i ritornimi più o più alti gli interessi più alti però un sito che ti dà un 12% di interesse su un conto in dollari di fatto o addirittura vincolato per soli tre mesi tra l'altro beh ce lo possiamo scordare cioè ci vuole un anno di vincolo per ottenere l'1% di interesse o forse certi con un mese di vincolo anche solo però per l'1% di interessi e non analizzo nemmeno questa possibilità qui dei straricchi che possono salire al 14% gli altri sono molto simili Silsius però ad esempio blocca per un anno se ben ricordo e tra l'altro hanno questa brutta abitudine di non dirmi chiaramente supponiamo che gli metta 1000 dollari in bitcoin per un anno mi dà il 6,20 se gli metto in una stable coin vediamo se le trovo una di quelle note magari e ordinare in ordine alfabetico pareva brutto eccola qui ecco qui 8,5 poco devo dire rispetto a quell'altro che mi dà il 10 o il 12 è un anno vincolata qui e defblockfy ci sarà da qualche parte dove products vedete il sito è un sito fatto in maniera standard cioè è un sito fatto bene in cui qua più o meno non proprio completamente ma più o meno si capisce nexo le pubblicizzava chiaramente peccato che bisogna avere in exo per ottenerli dov'è che sono ritiro immediatamente le pubblicizzava chiaramente da qualche parte sono nascoste eccolo qui earn lo chiamano earn qualcuno molto impropriamente lo chiama stake ma questo non ha niente a che fare con lo stake questo si chiama tecnicamente di solito nel mondo del crypto si chiama earn quindi earn mettere qualcosa sulla sefai di solito sefai è bloccarla ecco qui chiaramente questi se ottenete gli interessi nella loro criptovaluta se non li ottenete nella loro criptovaluta calano ok e inoltre c'è qui una piccola postilla scritta piccola da qualche parte che per ottenere questi questi tassi di interesse dovete avere i loro token nexo e dovete averne tanti se no ottenete molto meno comunque sono sempre interessi di tutto rispetto anche ottenendoli nella valuta normale e supponendo anche solo che vi diano la metà 5% di tutto rispetto come vedete fanno anche l'opposto hanno anche un piccolo exchange come ho detto fanno anche l'opposto da erogano anche prestiti voi direte erogano prestiti piano erogano prestiti contro collaterale non è che gli mandate la busta paga o mettete il mutuo l'ipoteca sulla casa fanno marameo erogano prestiti contro collaterale cioè dovete dare un collaterale in un'altra criptovaluta e vi danno il prestito che senso ha fare prestito contro collaterale beh in tutto questo video questo sarà uno dei punti cruciali quindi forse è il caso di spiegare che senso ha fare prestito perché voi dite io ho i soldi da depositare come collaterale che senso ha chiedere un prestito ma ragazzini razzuoli qui non si chiede un prestito per pagarsi la casa qui si chiede un prestito per speculare vuol dire io ho i bitcoin ho bisogno però di aggiustare la macchina e devo tirare fuori i 1000 euro come faccio o vendo i bitcoin ma allora mi perdo i futuri guadagni di bitcoin oppure metto i bitcoin come collaterale chiedo un prestito di 1000 euro e i miei bitcoin stanno lì a garanzia io con i 1000 euro li uso e ho i bitcoin comunque che mi rendono se bitcoin sale se bitcoin scende sono inchiappettato chiaramente è una doppia esposizione su bitcoin di fatto ma addirittura la gente fa e faremo anche noi nell'ultima parte di questo video qualcosa di molto più interessante e redditizio e rischioso metto lì bitcoin come collaterale chiedo a prestito una criptovaluta stabile USDT ad esempio me la danno a prestito al 6% e la infilo dentro crypto.com al 12% e quindi io prendo la rente da crypto.com 12% ho solo il 6% di interesse dall'altra e nel frattempo ho ancora i bitcoin che se come spero salgono di valore ci guadagno anche da lì quindi questo è il giretto classico che si fa sia nella sefai che nella defai quindi il significato di prendere a prestito quei soldi non è per pagarsi qualcosa no perché dovete mettere mettere come collaterale molto di più di quello che prendete a prestito è per poter fare il saltello da una criptovaluta all'altra essere esposti in una ma avere i soldi nell'altra o per specularci o perché siete pezzo al culo e avete bisogno di un po' di soldi vediamo qui comunque gli interessi di Uholder che li avevo visti erano interessanti eccoli qui interessi interessanti 12.3 giusto per fare un pelino in più di crypto.com ma li danno a tutti oppure bisogna avere fare i salti mortali carpiati tripli no penso che li diano a tutti basta avere 100 USD questo qui mi sa che il prossimo sarà questo ecco se decidete di investire in queste piattaforme sappiate che ci sono i seguenti rischi rischio numero uno che la stablecoin si depeghi cioè vuol dire la stablecoin va da gambe all'aria perché che so Bitfinex non garantisce più la convertibilità o succede qualcuno scopre che che non è in grado di garantirla e va a gambe all'aria quindi rischio numero uno non sono dollari veri ovviamente rischio numero due che la piattaforma a cui state prestando i soldi va a gambe all'aria devo dire se scegliete piattaforme note queste di solito hanno delle assicurazioni ma non sono delle banche non aderiscono al fondo interbancario di garanzia non è un conto corrente quindi avete questi due rischi ah io aggiungo anche il rischio numero tre che di solito viene sottovalutato del mondo se fai queste piattaforme ogni tanto non si capisce perché vi chiudono l'account ora a me non è mai successo ovviamente anche se sia stato un inghippo e mi hanno chiuso la carta di credito per un giorno però si legge su internet tizio a cui hanno chiuso l'account e non capisce perché cario ha chiuso l'account e non capisce perché ora se la vostra banca locale o nazionale vi chiude l'account voi gli scrivete una bella raccomandatina o andate a un avvocato e gli dite almeno ridammi i soldi qui se vi chiudo l'account diciamo che se loro sono onesti quindi i soldi ve li ridanno immediatamente però può darsi che abbiano proprio dei casini tecnici si siano persi il vostro file si siano persi la vostra richiesta di riavere i soldi quindi ci possono essere più che della disonestà degli inghippi tecnici e voi per risolvere questi inghippi tecnici dovete avere a che fare col servizio clienti alcuni hanno un servizio clienti buono altri meno buono e poi sapete quando si ha a che fare con un servizio clienti al telefono o via chat sul cellulare ogni tanto il servizio clienti si è fortunati si becca una persona competente che risponde subito ogni tanto si prende quello che risponde mai o ti mandano da uno all'altro quindi può esserci anche un piccolo problema tecnico a me mai è successo nulla di grave neanche a tutte le persone che conosco però sapete su internet si legge sempre questa cosa qui quindi mettiamoci anche possibile inghippo tecnico diciamo che se avete messo dentro 50.000 euro alla peggio prendete le valigette andate in Lituania dove penso abbiano sede e li bussate e a questo punto penso che qualcuno vi consideri quindi diciamo per grosse cifre il problema tecnico lo risolvete e per piccole cifre che magari avete soltanto 200 euro e il viaggio in Lituania non conviene però sto probabilmente spaventando inutilmente perché non ho mai visto con i miei occhi nessuno che abbia un grosso problema tecnico perché continuo a far oscillare il povero perché sono un youtuber povero invece di avere la telecamera da 2000 euro ho il cellulare da 200 euro che mi fa queste riprese bene dopo questa introduzione sulla Sefa passiamo alla finanza decentralizzata e qui si inizia un giro per l'inferno per il paradiso però diventa veramente un mondo sembra di Alice nel paese delle meraviglie cioè un mondo che non si capisce per certi aspetti iniziamo piano piano con le cose che si capiscono di più io qui mi sono fatto tutta la scaletta gli NFT non ne parliamo perché ormai è una cosa trend sapete sicuramente cosa sono i DEX i DEX sono gli exchange decentralizzati questi immaginatevi un normalissimo exchange come Binance Bitfinex Coinbase Bitstamp Terox Trading Cogno e devo fare la lista ancora Kraken eccetera eccetera penso di avere l'account su tutti questi un giorno quando manderanno i dati all'agenzia delle entrate qualcuno si grizzerà nei capelli anche a me però è decentralizzato cosa vuol dire decentralizzato vuol dire che è gestito da uno smart contract più smart contract in realtà cioè non c'è nessuno dietro in realtà siccome vedrete che ha un sito web c'è almeno un programmatore dietro e questo programmatore riceve dei soldi direttamente dallo smart contract perché è azionista anche lui dello smart contract comunque di quello ne parleremo dopo comunque di fatto non c'è nessuno 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 dietro tutto è gestito in maniera automatica e non fermabile vuol dire che anche se le autorità tirassero giù il sito web lo smart contract continuerebbe a funzionare e chiaramente noi avremmo delle difficoltà a interfacciarci ma potremmo ancora mandare i soldi al smart contract e ricevere i soldi indietro dall'altra o recuperare i nostri soldi in qualche modo quindi lo smart contract continua a funzionare imperterrito non c'è nessuno nessuno dietro quindi ovviamente non richiede alcuna registrazione chiaramente per il momento tutte queste cose vivono nel mondo da qui in poi tranne forse alla fine le assicurazioni le assicurazioni decentralizzate ma tutto il resto vive nel mondo cripto vuol dire che nell'exchange decentralizzato non ci infilate gli error no non c'è verso gli error dovete avere già ottenuto le criptovalute in qualche altro modo andiamo a vedere il primo forse il più famoso Pancake Swap ok Pancake Swap si attacca alla rete di non mi ricordo più allora questi exchange decentralizzati si attaccano a delle blockchain non esiste solo la blockchain di bitcoin c'è quella di ethereum che gestisce i smart contract ma ne sono nate tante altre perché quella di ethereum è il problema in questo momento 2022 che ha delle commissioni enormi 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 fare uno swap di questo tipo probabilmente mi costerebbe 50 dollari in commissioni ce ne sono tante altre una di queste ad esempio è la Binance smart chain ma io qui ne ho installate tutte le gestite da Metamask ho installato Avalanche Polygon Kronos Phantom Arbitrum e varie altre blockchain di test ok dopodichè ne esistono e queste sono tutte in stile ethereum quindi usano tutte Metamask se volete altrimenti potete usare un altro wallet come wallet standard ricordate che all'inizio del video io ho detto voi sapete già cosa sono gli smart contract ecco se avete un minimo di esperienza sapete anche che Metamask è di solito il wallet che tradizionalmente si usa per interagire con gli smart contract se no se non avete mai visto uno diventa un po' più difficile ecco qui sono sulla binance smart chain è una blockchain in stile ethereum anziché funziona praticamente come quella di ethereum quasi soltanto che ha delle commissioni molto più basse e come suggerisce il nome è stata lanciata da binance ok ecco qui pancake swap posso swappare e swappare è un termine tecnico per dire scambiare una criptovaluta per l'altra tutte queste coppie di criptovalute la lista è lunghissima no non è lunghissima finisce solo qui vergogna ah no si allunga sempre di più ora ti confesso che il 90% di queste criptovalute non capisco cosa siano bnb deve essere il token di binance vediamo se ne troviamo qualcuna più civile tipo il classico bitcoin bitcoin ecco qui bitcoin b usd attenzione questo è btcb che è bitcoin ma non sulla blockchain di bitcoin perché questo questo exchange decentralizzato agisce solo sulla blockchain di binance ok quindi è il bitcoin è diciamo il bitcoin il token che rappresenta bitcoin sulla blockchain di binance quindi su queste blockchain alternative e qui già inizia a complicarsi la faccenda esistono anche le criptovalute delle altre blockchain ma come token non è che viene presa la criptovaluta dall'altra blockchain e messa qua dentro come token no esistono degli smart contract che fanno scambio continuo quindi esisterà uno smart contract detto bridge che fa scambio dai veri bitcoin ai bitcoin sulla blockchain di binance quindi bitcoin sulla blockchain di binance dal punto di vista tecnico non hanno niente a che fare con bitcoin ma grazie all'esistenza di questo bridge che continua a scambiarli e di fatto assumono il valore del bitcoin ok e dall'altro lato qui permette di scambiare per BUSD che questo è il dollaro di binance è la stable coin garantita da binance binance ci garantisce ok vediamo se io potessi scambiarlo questo però è un liquidity pool ah scusate devo andare su trade è ovviamente exchange vediamo un po' se possiamo BTC ce l'abbiamo BTCB token è quello che abbiamo detto prima e li scambiamo per BUSD eccolo qui ecco qui io non ho l'uno nell'altro quindi adesso anche se faccio max non me lo fa scambiare però io ho invece i binance token eccolo qui inverto ecco qui io ho 0.44498 i binance token se volessi scambiarli per bitcoin ecco qui otterrei 0.00421914 bitcoin io uso il termine bitcoin ma un po' abusivo perché sono token sulla binance smart chain che rappresentano bitcoin premendo swap scambio funzionamento vedete istantaneo premendo swap interagisco con lo smart contract adesso lo faccio poi negherò la transazione potrei anche farlo giusto per perderci un po' di soldi ma si via facciamolo crepi la varizia allora faccio questo swap pronti via swap confermo lo swap glielo devo confermare dal mio wallet cioè il mio wallet deve interagire con lo smart contract si va bene quante commissioni pago vi è male ogni volta non confermo ok si devo aggiungere il bitcoin altrimenti non me lo vede ok confermata vedi istantaneo vediamo che mi sia arrivato magari anche grazie si ho capito metamask sveglia ok assets eccolo qui eccoli qui ho questi 0.004 btcb ok adesso se non vi dispiace li rimetto in questa criptovaluta qui eeeh no aspettiamo un po' magari aspetto confidando che nei prossimi 20 minuti bitcoin salga e così ci faccio anche almeno mi pago le commissioni e l'agenzia delle entrate pago solo le commissioni non faccio profitto eeeh bene così funziona ci sono un miliardo e settecentomila coppie di trading ok vedremo poi che questo che questo ha anche tante altre cose sotto vedete questo earn questo liquidity questo win non ne parliamo perché ste robe qui non le sentite ecco ne esistono settantaquattro milioni altri eccole qui sushi swap giusto per buttare in un altro famoso sushi e allora questo qua è un più minimalista come anche lui va sulla binance smart chain vedete mi fai prendi bnb e lui va a dire la verità va su tante altre smart chain vedete anche su quella di ethereum standard su polygon eccetera eccetera tutte quelle che sono in stile ethereum adesso passo a quella di ethereum standard non farò alcuno swap con la blockchain di ethereum perché le commissioni sono mostruose se io volessi swappare 0,1357 34 ethereum per i sushi e non è il piatto che mi arriva a casa bensì è la criptovaluta dell'exchange perché questi exchange decentralizzati emettono anche le loro criptovalute io potrei tentare questo swap pagherei uno fottio di commissioni non mi ha detto le commissioni peccato mi interessava sapere le commissioni ok comunque ne abbiamo un'altra marea ce ne sono anche alcune su altre blockchain di altro tipo perché oltre a queste blockchain che vi ho annunciato che sono di tipo ethereum quindi vengono di fatto le potrò gestire con metamask ce ne sono altre due molto famose una è solana e una è terra solana si gestisce con un altro con un altro piccolo wallet che è phantom te va bene oh ma ti ho già detto ieri di di riconnetterti perché devi riconnetterti e chiedermi la password pippo pippo 123 ecco qui ok phantom è il suo wallet è più o meno molto simile a metamask è soltanto cento volte più lento almeno sul mio computer di solito dovrebbe funzionare un po' meglio eccolo qui qui mi propone di swappare o stc per o stt peccato che non abbia ne uno né l'altro e l'altro terra swap è adesso non voglio perdere molto tempo sugli exchange sui dex perché sono abbastanza hobby come funziona terra swap anche lui va su un'altra blockchain che si chiama terra eccolo qui swap e ovviamente terra perché agli informatici piacciono i giochi di parole ha come criptovaluta sua nativa luna e ok e ovviamente c'è un razzo che parte ogni volta che fate uno swap benissimo adesso non swap però niente sulla blockchain di terra e per questo sono gli exchange decentralizzati cosa facile banale e che tutti dovreste capire così e come vi ho detto ci sono i bridge i bridge altro non fanno che spostare una criptovaluta spostare dal punto di vista finanziario spostare una criptovaluta da una blockchain all'altra però attenzione perché questa criptovaluta potrebbe essere magari la criptovaluta nativa di una blockchain ma sicuramente non è nativa dell'altra o in alcuni casi potrebbe essere non nativa in entrambe prendiamo all bridge che è ultimamente quello che mi piace di più ok vedete qui mi fa swappare dalla blockchain di solana alla binance smart chain che cosa ho io sulla blockchain di solana di interessante ah ma sulla binance sulla binance smart chain ho appena messo quei bitcoin come token sulla binance smart chain quindi io faccio esattamente l'opposto prendo quei bitcoin come token che c'è io sulla binance smart chain e li sposto sempre come token sulla blockchain di solana sempre come token perché i bitcoin vivono i bitcoin veri vivono sulla loro blockchain quindi io li ho come token sulla binance smart chain e li sposto come token sulla blockchain di solana e però devo dirgli che sono dei bitcoin vediamo se se li gestisce si li gestisce ecco qui vedete io i parto con i btcb e avrò questi bellissimi a b btcb capite qui che c'è che inizia a esserci veramente un livello di complessità un po' alto perché mentre nel mondo della finanza tradizionale se io ho i talleri finlandesi sono i talleri in finlandia se io ho i talleri finlandesi sono talleri finlandesi sia che io li abbia in finlandia sia che io li abbia in italia eccetera eccetera cioè nel mondo della finanza tradizionale c'è una sola blockchain che è il mondo stesso qui se io ho dei bitcoin sono dei veri bitcoin se ce li ho sulla blockchain di bitcoin ma se ce li ho sulla blockchain di solana in realtà non sarebbero dei veri bitcoin sono degli a b b t c b e perché sono degli a b b t c b perché io spero che il bridge tra solana e la blockchain di bitcoin continua a funzionare nel momento in cui il bridge smette di funzionare i miei a b b t c b smettono di essere legati a bitcoin quindi confidando adesso quindi questi bitcoin gli facciamo fare un giro allegro e felice e li mettiamo sulla blockchain di solana e qui saranno da fare due passaggi il primo devo toglierli dalla binance smart chain e cederli direttamente allo smart contract o il bridge che sta sulla binance smart chain il secondo passaggino quello smart contract li infilerà nello smart contract sulla blockchain di solana e infine la blockchain di solana me li manderà a me sul mio wallet di solana facciamo tutti gli alleghi passaggini metamask faccio notare commissioni che sto spendendo per fare questo video per voi si va bene binance smart chain ok mi dice si si ho visto ce n'hai bravo tutti quanti gli dico tutti quanti e agenzia delle entrate non sto facendo questi giri per far perdere le tracce di questi 100 euro che probabilmente alla fine ne rimarranno 80 ok pago ben una commissione dello 0,3% io approvo e qui c'è una cosa che a me non piace proprio per niente adesso ve la faccio vedere eccola qui lui mi chiede il permesso per accedere ai miei BTCB però lui guardate che permesso mi chiede mi chiede il permesso illimitato praticamente io invece dico cavolo che ti do il permesso illimitato io do il permesso esattamente per i BTCB che c'ho non illimitato questa è una delle cose su cui varie persone sono state fregate ok quindi io prometto a questo smartcon di accedere ma solo a questi 0.004219147784768111 Bitcoin ok e non a tutti i miei Bitcoin ok fatta se li hai presi adesso se vado su Metamask non li troverò più ah si aspetta devo mandarli dall'altra parte scusate prima che mi scada tutto li mando dall'altra parte quindi apro Solana e Phantom che è il wallet su Solana mi copio l'indirizzo copiamo l'indirizzo ecco qui qui mi dice l'indirizzo non è corretto non è vero ecco qui Metamask devo dare l'approvazione si va bene li mandiamo ok transaction is pending ok quindi controlliamo su Metamask se stanno sparendo ok è un'interazione con contratto i miei asset sono spariti i Bitcoin BTCB ok benissimo sta ricevendo conferme alla quinta vorrà che io confermo la ricezione dai su le altre due conferme arrivano ecco qui connetto il wallet Phantom ok si voglio ricevere su Phantom strano ma vero bisogna anche dare la conferma per ricevere soldi perché questo perché si è visto che se non si chiede questa conferma anche per ricevere soldi c'è chi ti ti rifila criptovalute prive di valore tanto per buttartele lì e tu ti trovi il portafoglio pieno di criptovalute di valore infimo e non capisci più nulla ecco qui sta pendendo faccio notare che mi sto fidando di allbridge.io che è uno smart contract non è centralizzato è decentralizzato sotto c'è uno smart contract io avrei dovuto a far bene le cose andare a guardare il codice di questo smart contract e controllare che non ci sia la funzione prendi tutti i soldi di coletti e portali via perché potrebbe esserci per quello che ne sappiamo noi eccolo qui transaction is successful mi propone di swapparli su saber saber è un un dex sostanzialmente sulla rete di solana l'abbiamo visto prima mi sembra no adesso vabbè è tutto ma no anche perché probabilmente tornerò indietro e adesso su phantom entro domani dovrebbero essere vedersi in realtà si vedono subito benissimo e questi sono i bridge i bridge semplicemente permettono di scambiare token da una blockchain all'altra in realtà non state scambi guardando i token come vi fanno credere ahia panico non ci sono sono spariti panico ah no ah ecco vrapet btc eccoli qui vrapet btc sono già in guadagno di 6 dollari lusso bene così mi piace fare questi video in cui si guadagnano soldi ecco come si fa a guadagnare soldi con youtube in realtà ripeto non è che io sto spostando il token semplicemente lo sto vendendo su una blockchain e riacquistandolo sull'altra questo è quello che mi fa il bridge avrei potuto fare tutta la cosa a manina ma avrei dovuto spostare euro che è un casino ok e questi sono i bridge facili no no se pensate che siano difficili potete fermare il video qui perché le prossime cose si inizieranno i capelli e landing sul nel mondo della finanza decentralizzata potete prestare soldi o chiedere soldi in prestito ora prestare soldi è facilissimo mettete i soldi lì e questi soldi vi danno un tasso di interesse che nel mondo della finanza decentralizzata è estremamente variabile nel senso che può fare istante per istante a seconda di quanta gente sta chiedendo quei soldi chiaramente tutto è gestito sempre da uno smart contract e lo smart contract si prende una piccola percentuale su questi lui ovviamente ci guadagna perché come al solito presta soldi a un certo interesse e ne ottiene a un interesse più basso su questo spread lui ci guadagna un po' lo smart contract e cosa se ne fa di questi soldi beh un po' li mette via garanzia un po' ci paga il programmatore del sito è tutto visibile cioè si vede chiaramente quanto è quanto paga il programmatore del sito e un po' vedremo dopo cosa ci fa perché ci hanno anche degli azionisti questi smart contract allora vediamone qualcuno beh Abe vediamo se perché bisogna beccare quelli comprensibili perché ce ne sono molti che sono incomprensibili e Abe se non sbaglio va su Bursk blockchain siamo simpatico che non si capisce su Polygon siamo sto giro andiamo su Ethereum ok andiamo su Ethereum dove non farò nessuna operazione perché le commissioni mi ammazzano e cosa fa qui market ecco deposit and borrow e chiaramente un po' assomiglia a quello della centralized finance perché questi siti che prestano e chiedono soldi in prestito e hanno anche il loro settore di piccolo exchange quindi vado su deposit cos'è che mi accetta in deposit in deposit mi accetta il DAI per il quale mi dà 2,24 vedremo dopo cos'è questo 0,48 aggiuntivo USD coin mi dà un misero 1,94 ma non glielo darò neanche morto Ethereum mi dà niente di Ethereum vedete delle percentuali che al momento sono estremamente variabili domani possono essere 10 volte tanto vediamo ordiniamole per API vediamo quelle che hanno di più ecco se presto il curve DAO token mi dà bene il 13% più lo 0,40 di API lo vedremo dopo che cos'è una miseria se invece chieda prestito ecco qui se chiedo a presto posso scegliere tra il tasso variabile e il tasso fisso voi direte sono come il tasso variabile e il tasso fisso in banca no perché in banca il tasso variabile cambia ogni 3 mesi qui il tasso variabile cambia ogni istante cioè voi avete un prestito in cui ogni istante vi cambia il tasso il tasso fisso è fisso a meno che non ci sia una forte rivoluzione nelle condizioni di mercato e tutto è scritto nello smart contract il tutto è gestito anche se è un sito web il tutto è gestito dallo smart contract e dentro lo smart contract c'è scritto cosa sono questo cambio di condizioni di mercato solo in questo caso il tasso fisso cambia vediamo se io cos'è che mi conviene chiedere se io chiedessi a prestito il curve 036 quindi potrei chiedere a prestito ethereum 036 e metterlo in qualche piattaforma di centralized finance al 6% interessante posso veramente farlo non scherzo posso chiedere a prestito anche qualcosa di più interessante tipo ecco qui usdc al 3% e lo metto su crypto.com che mi dà il 12% se voglio invece il stable 11% a questo punto non mi conviene più ecco qui come si fa a mettere a chiedere beh depositare è facile io deposito su questa blockchain non so se mi è rimasto più ah questa blockchain di ethereum adesso ho degli ethereum farò finta di depositarli non li deposito manco morto perché ok vedete io connect ok allora lui adesso dovrebbe vedere che io ho degli ethereum no non se ne accorto manco per l'idea allora fa come could detect a wallet eccolo qui vabbè non gli interessa posso connetterlo vabbè non lo vede peggio per lui non gli darò i miei ethereum ok io posso depositarli una volta che ho depositato qualcosa a questo punto posso chiedere in prestito usando la cosa depositata come collaterale come funziona supponiamo che abbia depositato 2000 dollari di ethereum quindi al momento forse mezzo ethereum ok io li ho depositati e posso chiedere nel caso di ethereum al massimo l'82% di quello che ho depositato in un'altra criptovaluta posso chiedere anche in ethereum stesso ma sono un deficiente se faccio così non c'è nessun motivo per farlo posso chiedere in prestito in un'altra criptovaluta quello che ho depositato ora un parametro a cui bisogna prestare molta attenzione è questo allego intanto c'è il deposito APY vuol dire che io guadagno in questo caso su ethereum lo 0,01 su questo deposito pagherò un interesse su quello che ho depositato o meglio più che pagare un interesse su quello che ho preso a prestito scusate più che pagare un interesse quello che ho preso a prestito continua a crescere dell'interesse che che devo pagare mentre quello che ho depositato continua a crescere dell'interesse che ricevo da qui quindi paradossalmente se io ad esempio deposito uno stable coin che mi dà il 3% di interesse e prendo a prestito ethereum che mi chiede forse lo 0,5% di interesse se preso a prestito io ho un prestito che non finirà mai perché il mio collaterale aumenta di più del prestito che ho preso un parametro a tenere estremamente in attenzione è questo liquidation threshold se per qualche motivo per fluttuazioni delle due criptovalute o perché io faccio operazioni bislacche la quantità chiesta prestito supera l'85% io vengo da autorità liquidato faccio notare nel mondo della finanza tradizionale la banca vi scrive una letterina dicendo caro tizio venga a parlare col direttore qui nessuno vi scrive una letterina cazzi tuoi prendono e ti liquidano cosa vuol dire? vuol dire che prendono tutto ciò che è andato oltre l'85% dei vostri in questo caso dei miei ethereum lo vendono per ripagare il mio debito e in più mi applicano una penale del 5% o non è gravissimo è penale del 5% alla fine penso che molte persone che sono in balia degli strozzini penale del 5% farebbero festa quindi diciamo il mondo della finanza decentralizzata è anche gentile penale del 5% è gran festa e questo vuol dire che se uno prende l'82.5% a prestito è un pazzo perché in un attimo può arrivare all'85 se ethereum cala ad esempio o se quello che ha preso a prestito sale in un attimo arriva all'85 quindi con un liquidation threshold dell'85 io personalmente prenderei a prestito al massimo il 60 e io ad esempio ho fatto una cosa del genere mi sono messo l'allarme sul cellulare quando il prezzo arriva a un livello tale che sono al 10% mi manca la liquidazione avvisami che vado a mettere l'alto collaterale o a ripagare in parte il prestito perché altrimenti vengo liquidato o dire non è proprio questo taglio delle vene a essere liquidati perché perdo il 5% usano il mio collaterale per ripagare il debito questo perché perché nel mondo della finanza decentralizzata non è come la finanza tradizionale in cui mi porti la busta paga metti l'ipoteca sulla casa no non esiste tutto ciò nel mondo della finanza decentralizzata chi sei nessuno sa chi sei nessuno sa che nessuno è un credit score non ti si conosce e quindi devi darci qualcosa di tangibile e di tangibile di facilmente liquidabile cioè un'altra criptovaluta ecco tutti gli altri sostanzialmente funzionano così vedete anche lui c'è il suo swap anche lui c'è il suo market vediamo in un altro che forse è il mio preferito infatti nel video nel parte finale del video farò proprio un esempio su questo anchor è il mio preferito adesso capirete perché andiamo su earn 19.41 sulle stable coin ok su questi che è una stable coin ok e borro quanto fa borro a meno 5.26 vuol dire che pagate 5.26 a borroare che cosa dipende ah lui fa prendere prestito si dice in linguaggio tecnico lendare e borroare perché in italiano prendere a prestito è troppo lungo ethereum e luna sì ok e ce n'è una svalangata eccoli qui solend è una che ne ha tante di cose che si possono fare eccole qui ne ha tantissime e tra l'altro la tabellina stavolta si capisce forse supply apy e quanto vi danno se glielo date se date slend vi danno il 15.28 se date usd l'11.43 così tanto interessante perché ce li ho da un'altra parte e li sposto se dare bitcoin 0.19 e borro i py se li prendete a prestito a questo punto fatta questa escursus questo escursus sulle prestiti c'è da dire un'altra cosa e scommetto che è una cosa che ha i più migliori osservatori di voi non sarà sfuggita guardando questa tabellina alcuni sono negativi e altri sono positivi questo è l'opposto dell'altro qui positivo vuol dire che lo state pagando voi e lo so bene perché io ho appena chiesto a prestito questi e quindi io sto pagando l'1.78 positivo vuol dire che lo state pagando voi ma negativo eh vi sembra incredibile ma se voi chiedete a prestito dei soli in questo momento vi pagano per prenderli a prestito non è una cosa così incredibile perché in realtà voi per aver preso a prestito quei sold avete messo del collaterale ok quindi avete dato dei soldi alla piattaforma che è vero anche il collaterale ha il suo rendimento ma già sono contenti così e non solo voi rischiate di essere liquidati che anche questo dà soldi alla piattaforma perché quando qualcuno è liquidato la piattaforma si frega le mani perché 5% in più anzi in realtà a dire la verità non è la piattaforma che liquida non è lo smart contract che liquida ma ci sono funziona praticamente che il primo che se ne accorge può saltarvi addosso e liquidarvi ok quindi solo la parte c'è dentro ovviamente quindi sono proprio gli utilizzatori dello smart contract che si si frega le mani quindi addirittura questo dà il meno cioè quindi se io prendessi a prestito dei so earth mi darebbe il meno controlliamo non stia sparando cavolate borrow ah si si borrow apy 461 rewards 1367 perché ci sono questi questi reward cosa sono questi rewards che mi rendono la fine negativo cioè qui sta parlando di prestito in cui io percepisco il 9% quindi il mio prestito cala del 9% è vero in ethereum sono esposto a ethereum o meglio avendo preso a prestito ethereum sono esposto inversamente a ethereum se il prezzo di ethereum sale sono cavoli probabilmente stanno pensando che il prezzo di ethereum salirà come sta succedendo e cosa sono questi rewards e adesso qui vi spiego il tutto voi nel momento in cui date dei soldi alla piattaforma o anche nel momento in cui prendete a presto dei soldi alla piattaforma state aggiungendo liquidità alla piattaforma le piattaforme di questo tipo i smart counter hanno bisogno di liquidità perché se non c'è nessuno all'inizio che gli mette dei soldi non possono prestarli è come una banca appena avviata una banca appena avviata vi fa delle offerte sensazionali del momento perché ha bisogno di liquidità per essere avviata di solito le banche non succede perché già vengono avviate e capitalizzate però immaginate voi che dovete partire una banca da zero e fate delle offerte speciali diciamo date degli incentivi per mettere liquidità ecco le piattaforme di finanza decentralizzata continuano sempre a darvi dei forti incentivi per mettere liquidità o sotto forma di deposito o addirittura sotto forma di prestito che per loro è doppia liquidità perché è tripla da un lato le avete depositato del collaterale per forza dall'altro le prendete a presto quindi fate movimentate la piattaforma e loro ci guadagnano in commissioni dall'altro lato rischiate pure la liquidazione quindi state facendo girare parecchia liquidità e quindi vi danno delle rewards in questo caso vi da le rewards in forma di token SLND Solend è il suo token nativo la sua criptovaluta tra l'altro faccio notare che sta dando rewards nella moneta che si stampa da sola per questo anche può permettersi delle rewards in questo caso ad esempio molto generose del 1367 perché di fatto è moneta che si è stampata da sola però è moneta che ha un valore cioè si può scambiare ci sarà sicuramente qualche exchange anzi forse la piattaforma stessa vi permette di scambiarla per qualcos'altro questa cosa qui si verifica anche ma devo dire anzi molto di più per le piattaforme che fanno swap e per le piattaforme che fanno bridge torniamo un attimo indietro su qualche DEX ad esempio Pancake Swap Pancake Swap ok vedete c'è il liquidity quindi voi potete e sì però se mi fai vedere anche tutto grazie no liquidity e quanti soldi c'ha ok Pancake Swap andiamo qui noi abbiamo visto trade exchange ok però trade liquidity cosa fa di bello un'altra cosa vediamo su farms ok prima trade exchange era per scambiare su farms cos'è il farms voi state dando liquidità cosa vuol dire ad esempio io do liquidità a questo BUSD BNB come faccio a dare liquidità devo dare metà soldi in BUSD e metà soldi in BNB glieli presto quindi lui gli aumento la liquidità gli aumento la disponibilità liquida lui automaticamente me li ribilancia a seconda di quanto ne ha bisogno vale a dire se per caso va in carenza di BUSD trasformerà dei miei BNB in BUSD quindi me li sposta a sua discrezione io la liquidità posso ritirarla quando voglio però la ritiro come me l'ha spostata lui quindi io gli ne do 50-50 poi lui la sposta a seconda di che richieste ci sono e non tanto di che richieste ci sono ma dei prezzi perché è uno dei due prezzi per frutturare in maniera diversa dall'altra e quindi io poi la ritiro mi ritirò delle cifre diverse e ok vedete questa è la liquidità totale che gli è stata data ok e che premio mi dà come premio lui mi dà una serie di incentivi di solito un APR eccolo qui vediamo scusate fatemi fare il calcolo faccio vedere quanto mi dà ad esempio supponiamo che gli dia 1000 dollari di liquidità il che vuol dire 500 dollari in BUSD e 500 dollari in BNB gli devo dare ok gli lascio fermi per un anno ok e per il momento questo compound lo togliamo e lui mi dà 57 dollari vediamo come ok 21 doll 21% è secco secco proprio me lo dà di interesse quanto faccio in centinaia di dollari così capisco meglio ok 21% secco secco sono gli interessi ok in più mi dà come premietto il suo token che si chiama CAKE è PancakeSwap quindi il suo token è CAKE ok che ha un valore del 579 ok e attenzione perché questo C nel mondo della finanza decentralizzata gli interessi vi vengono pagati istantaneamente e so che alcuni sverranno come istantaneamente vuol dire ogni istante vuol dire che voi ogni istante quando gli chiedete vuol dire che se vi danno il 10% di interesse annui loro vi danno il 10% diviso i millisecondi che ci sono in un anno ogni secondo ora chi conosce la matematica finanziaria e c'è il mio video sopra capisce che a questo punto visto che gli interessi vi danno quando volete conviene chiederli frequentemente e reinvestirli in questo modo ottenete interessi composti quindi per quello qui vi dice ciccio se tu per caso ogni giorno mi chiedi gli interessi e li reinvesti adesso torniamo a mille per avere delle cifre un po' più ecco mille ok un anno la guardate 57,91 se invece ogni giorno li reinvesto vanno a 59,61 ok non è una grossa differenza e sono i cake che reinvesto ok vedete il rendimento dei cake passa a 5,79 a 5,96 se li reinvesto ogni 7 giorni dovrebbe essere meno ogni 14 ancora meno ogni 30 ancora meno se non li reinvesto mai si se mi fai togli a 57 ora questo esempio qui non è una gran cosa reinvestirli quindi questo bonus che mi danno questo bonus è detto spesso liquidity token cioè un token che rappresenta la mia liquidità e no in realtà no è il token dell'exchange vedremo dopo il liquidity token è un pelo diversa e qui reinvestire il bonus non ne vale la pena cioè adesso onestamente non è che ho tempo da perdere reinvestire questo bonus ogni volta però ci sono tanti altri casi in cui il reward in cake è alto più alto di questa APR e quindi magari conviene vediamo se ne troviamo qualcuno bislacco ecco qui guardate questo vi da il 188 di APR vediamo come è calcolato ah no qui proprio 188 base APR ma perché mi da il 188 facciamo i conti ok allora 1000 dollari ok tenuti per un anno non composti ok non composti mi danno 1887 dollari a fine anno ok e oltre i miei 1000 oltre i miei 1000 e chiaramente perché queste due criptovalute sono un po' assurde quali criptovalute sono soprattutto gear gear è un po' assurda quindi mi danno a mio rischio avere dei gear ok e se io lo componessi vedete componendolo ogni giorno ecco che i miei 1000 schizzano a 5000 se sono pigolo compongo solo ogni 30 giorni a 4007 questo perché in realtà è tutto in cake che cavoli quindi se essendo tutto in cake componendo questi 188% vi schizza un rendimento alto per questo si chiamano farms perché voi di fatto fate i contadini e dovete ogni santo giorno andare lì prendere e reinvestirli vendere il cake che avete ottenuto e reinvestirli nello stesso attività potete anche reinvestirli in un'altra attività potete anche venderli e andare a festeggiare con gli amici vediamone qualcun altro vedete ci sono degli APR vergognosi altissimi invece di cercare hot ma quelli con più liquidità che sono quelli più stabili ecco vedete quelli con più liquidità hanno degli APR decisamente bassi chiaramente se c'è una coppia che ha una liquidità bassissima allora PancakeSwap cerca liquidità disperatamente e vi dà dei grossi cake diciamo però questo qui cake BNB 36% non ci sputerei sopra vediamo qualcuno con liquidità alte rendimenti alti nessuno eccolo qui cake BUSD 491 è abbastanza al momento ha 15 miliardi di dollari milioni di dollari di liquidità cioè queste cose sono cifre che tra l'altro è depositata non è in asset Bislac è depositata quindi queste sono cifre che fanno rizzare i capelli alle banche e vediamo i soliti mille dollari qui come me li suddivide e allora 32% è il token di premietto se non faccio composto 3,28 facendo composto 3,88 ogni giorno se compongo invece ogni 30 giorni 3,82 vedete che già basta comporre ogni 30 giorni se lo tenete un anno se lo tengo 30 giorni chiaramente comporre ogni 30 giorni non ha senso infatti è esattamente lo stesso quindi se lo tenete un anno basta già fare il lavoretto ogni 30 giorni cioè non serve proprio essere dei veri contadini sempre lì che cliccate e io tra l'altro ho qui dei cosi cos'è che ho dei cosi che dato che blockchain è aiuto posso sapere che blockchain sono dov'è che ho quegli 8 sono su bnb ah non ho più niente perché ho messo tutto su solana niente quindi queste sono la fase diciamo 3 voi fornite liquidità al sito che fa swap o al sito che fa lending fornite liquidità a uno smart contract in generale di solito sono quelli che fanno lending quelli che fanno prestiti o quelli che fanno swap o quelli insomma vedremo dopo altre cose bislac in cambio di questa liquidità prendete un interesse ok e avete ovviamente siete esposti ovviamente cioè avete le due criptovalute che oscillano in maniera incontrollabile e prendete anche dei bonus che potete andare a comporre ritirandoli ogni ogni quanto volete questo perché perché nel mondo per una questione tecnica legata agli smart contract il fatto che siano passivi loro non vi possono dare dare da soli gli interessi dovete essere voi a chiederli quindi gli interessi nel mondo di smart contract potete chiederli quando volete diciamo che la finanza centralizzata la sefai ha ereditato un po' questa cosa qui e ad esempio crypto.com mi molla interessi ogni sette giorni che è una cosa assolutamente impensabile nella finanza tradizionale e qui mollano interessi ogni volta che glieli chiedo sono sempre semplici cioè non sono composti devo comporli io a questo punto qualcuno di voi potrebbe dire che palle cioè c'ho mica tempo di comporli non c'è problema c'è chi ha inventato ovviamente gli autocompounder gli autocompounder adesso provo per gli autocompounder già diventano difficilissimi da capire provo a non so a prenderbeccare questo proviamo con Bifi Finance anche se confesso che non l'ho mai capito bene gli autocompounder fanno questo sporco lavoro per voi cioè loro innanzitutto hanno anche degli asset in quel in quel posto dove vi fanno investire in modo da ottenere più soldi per voi proprio lavorano per il caso di dire lavorano per voi e poi possono permettersi di prelevare ogni tot molto più frequentemente di voi perché sono svegli anche di notte sono sempre degli smart contract e e quindi lavorano per voi e ovviamente si incassa una piccola percentuale però onestamente vi aumentano così tanti rendimenti che la percentuale che si incassano diventa irrilevante per voi questo qui vedete lui voi scegliete potete scegliere il network quindi vediamo vediamo Pancake Swap ok ok tutti vediamo se ritroviamo qualcuno che dall'altra parte avranno visto c'era quello che mi dava tantissimo prova a tornare su Pancake Swap dov'è dov'è Dex Pancake Swap avevamo trovato quello che mi dava un APR vergognoso quello del 180% quello che facendo la composizione ed era con Gear eccolo qui Gear BNB era vediamo se lo ritrovo qui beh vediamo questo Fuse BNB vediamo se lo se lo prendo qui contro le F Fuse eccolo qui qui Fuse BNB mi dà il 95% ok dettagli e se lo compongo ogni ok ok se non lo compongo mai vedete mi dà di fatto soltanto il 75% ok se poi lo compongo ogni giorno mi dà decisamente di più il 111 ok se io uso Bifi Finance 167 perché lui me lo compone più di una volta al giorno e si studia attentamente quanto spende in commissioni a ritirare perché bisogna pagare commissioni per ritirare gli interessi lui si studia tutte le cose ha il suo algoritmo ok poi vedo anche un trading APR quindi mi trema un attimo a sapere cosa faccia con i miei soldi però gestisce tutto lui diamo in mano chiave in mano 167% di rendimento quindi aggiungo un livello di rischio in più perché ho il livello di rischio di pancake swap quindi magari che so va a gambe all'aria perché salta la liquidità di quelle criptovalute lì e ho il livello di rischio di Bifi Finance perché magari ha scritto male lo smart contract smart contract opera automaticamente sa tutto lui è scritto male lo smart contract e quindi vedete lui mi fa è uno degli auto compound cioè tutto quello tutti gli interessi che ricevo li reinveste non solo reinveste quelli ma attenzione perché non abbiamo finito liquid staking vediamo anche qui io faccio fatica a capire vi confesso vado su marinade che mi sembrerà quello più comprensibile anche se cambierò idea è sulla blockchain di Solana come vedete chiaramente ok oh la password è pippo pippo 1 2 e 3 ok eccolo qui ah sulla blockchain di Solana io ho ancora quella schifezza dei bitcoin vraped che vorrei rimettere sulla blockchain di Binance in Binance Coin allora liquid staking innanzitutto cos'è lo staking tutte queste blockchain tranne quella di Ethereum per funzionare veloce con commissioni basse usano non usano il proof of work quindi tutto il sistema di bitcoin i minatori i grossi computer l'indovinello da risolvere ma usano il proof of stake è un sistema diverso vuol dire che c'è ci sono quei minatori mettono uno stake quindi una quantità di soldi bloccati e sono bloccati e loro in questo modo hanno diritto di fare i minatori quindi di validare le transazioni e ricevono dei piccoli compensi se però tentano di fare i furbi dove fare i furbi vuol dire votare contro la maggioranza sostanzialmente perché nel mondo cripto fare i furbi è non adeguarsi agli altri è l'unico modo che si ha per capire se uno fa il furbo e vengono slasciati vuol dire perdono una parte di quello che hanno messo quindi è un'attività leggerissimamente pericolosa soprattutto se perché spesso non fai il furbo perché vuoi fare il furbo fai il furbo perché il tuo computer ha un problema e quindi ha fatto una decisione sbagliata e vieni slasciato ecco ora l'utente normale non si mette a fare questo perché non rischia che il suo computer gli si impianti in qualche modo strano e i suoi soldi vengano slasciati lo fanno delle cose degli invalidatori professionali eccoli qui qui ci sono a disposizione 467 validatori ora normalmente voi dovreste dare questi vostri in questo caso solana in mano a un validatore e questo validatore vi dà una piccola percentuale che è parte dei suoi guadagni per ringraziare per avergli messo dei soldi in mano perché i validatori più soldi hanno più riescono a validare e più è un po' come nel mondo reale le persone che hanno i soldi hanno il controllo della finanza quindi voi prestate i soldi a questi validatori che li usano per validare e vi danno un po' di percentuale quindi vi danno un rendimento ora il problema è che i vostri soldi sono bloccati lì e non potete farci niente ecco che qualcuno si è inventato il liquid staking cosa vuol dire? vuol dire che voi date ai validatori i soldi ad esempio perché non ho zero soldi? metto tutti i miei solana non ci penso nemmeno a schiacciare stakes all li do a qualche validatore penso che marine decida lui a chi potrei forse scegliere il validatore mi danno questo bellissimo 621 ma non solo mi danno anche un liquidity token quindi mi danno un token che rappresenta i soldi che gli ho dato ora questo token diciamo in un mondo normale io me lo tengo e lo uso per recuperare i miei soldi quando faccio unstake nel mondo della DeFi io questo token cosa ne faccio? lo investo lo faccio girare lo scambio per qualcos'altro ovviamente io non potrò più recuperare i miei soldi poi lo scambio per qualcos'altro oppure lo metto a rendita su qualche altro sito oppure lo do come collaterale a un sito di lending e prendo a prestito una stablecoin e la metto a rendita al 19% su Anchor quindi questo token io lo faccio girare quindi riesco a mettere a frutto due volte i soldi che ho dato in staking sia come staking 6.21 vediamole dopo domani magari arrivano le statistiche ecco qui va bene lo do a marinade che me lo mette in staking chiaramente inutile che vi evidenzi quei rischi che lo smart contract sta dietro a marinade perché anche questo è uno smart contract anche se il sito lo sembra fatto bene che va da gambe all'aria che i solana perdano completamente di valore che il validatore a cui l'ho dato subisca 1,2,3,4,5,10 slashing e non abbia più una lira da restituirmi ok tutta questa serie di rischi ecco vedete ricevo i msol quindi io do i sol e ricevo gli msol questi msol sono la rappresentazione del mio stake che io posso comunque giocarmi su altri siti ad esempio mettendoli come collaterale hanno comunque il loro valore ecco qui e posso rivenderli per avere degli altri soldi da mettere in staking e così via quindi posso in un certo senso autocompoundarmeli ok anche questi 6,21 che mi vengono dati vediamo se sono come ho ben capito sì sono dovrebbero essere istantanei anche questi e anche qui può scattare l'autocompounder una cosa interessante questo addirittura decide lui le strategie quindi decide guarda i soldi che mi dai faccio così li metto li presto lì ottengo questa cosa qui la rigiro di là la bacio di là questa mt dice la strategia esplicitamente ad esempio andiamo su strategie semplici volts allora vediamo 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 sushi ecco se io gli prestassi dei sushi vediamo cosa ne fa lui di bello sì però mi chiamano supply sushi to league DAO to earn league earned tokens are harvested vuol dire che ritira gli interessi più spesso possibile venduti per altri sushi che sono depositati di nuovo nella strategia questo è abbastanza semplice vogliamo fare le cose un po' più elaborate e beh iron bank è una citazione a game of thrones per chi l'avesse capito fa prestiti anche lui anche lui fa i prestiti labs labs fa cose troppo elaborate vediamo se prendo wallets di coppie 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 sono tutti singoli qui mi fai anche coppie eccolo qui curve contro ethereum vediamo che strategia bislac mi propongono supplies curve curve ethereum to convex finance to earn curve and curve x and any other viable tokens quindi raspaggio tutto earn tokens are harvested sold for more ah questo è anche standard cioè quindi fa il classico compounding ne ho visto alcune che facevano cose bislacche del tipo sposta di qua gira di là tira di su gira su ethereum su phantom e vediamo 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 labs sono le cose bislacchissime cos'è questo iw boost al 123% non voglio saperlo se vado su home niente non trovo le coppie strane ecco di solito si basa molto su curve curve è un dex che fa anche tante altre cose che appena lo vedete non spaventatevi per la grafica non spaventatevi eccolo qui ecco la grafica che è la sua il suo trademark direi una grafica dm proprio dm e lui ha vedete è è un è un 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 dex ma ha anche parecchia è anche un centro di liquidità nel senso ha queste pools che danno liquidità ad esempio questo qui dà liquidità se volete scambiare ren btc per rapid btc addirittura dà liquidità a cose con quattro cose per scambiare da ydai per yusdc o per yusdc o per ybusd ecco qui comunque è pool e ha la sua caratteristica è che come vedete create pool io posso farmi la mia pool di liquidità cioè posso farmi la mia chiaramente poi nessuno mi metterà una lira soprattutto se se butto dei tassi di interesse fuori mercato ecco quindi è questo è curve ed è molto famoso molto molto famoso e qui ce n'è una marea di pools comunque perché come chiunque può crearle certo che se mi facesse vedere va bene me l'hai già connesso sette volte i wallet e perché eccolo qui ecco qui tricrypto questa va molto per la maggiore è una pool che permette di scambiare usdt per rapid btc per rapid bitcoin per rapid ethereum e voi date liquidità a questa pool tutti i soldi che ci mettete vengono suddivisito a queste tre vi dà un vergognoso v e base rendimento base 0.85 ma se possedete i suoi token quindi token curve ve lo dà dal 3.98 al 9.96 per questo yearn finance lui li possiede i token di curve e quindi riesce a spuntare dei rendimenti maggiori vediamo e non è finita qui se siete sopravvissuti parliamo un istante di questo stock market che mi ha stupito questo stock market promette di acquistare azioni del mondo del mondo standard guardate apple bnb amazon alibaba mescolati con bitcoin cioè nel mondo della finanza tradizionale ancora si stanno tirando mene sul se a fare l'etf su bitcoin o meno e qui ce ne sbattiamo altamente dico c'è perché mi sento anche io in piccola parte protagonista no ma diciamo un gregario e qui ce ne sbattiamo altamente e abbiamo un sito che vende tranquillamente bitcoin assieme alle altre azioni senza alcun ritegno vedete the world disney company chiaramente sono dei token non è comprate la vera azione della disney sono dei token e voi sperate che questo smart contract che promette di fare il mirror quindi di riflettere perfettamente il prezzo del world disney company non va da gambe all'aria chiaramente anche lui si accumula riserve per proteggersi contro il fatto che la disney schizzi all'improvviso e tutti gliela chiedano o cose del genere ok quindi ad esempio io potrei comprare la world disney company gira su terra dove io dispongo della bellezza di 0,35 dollari cosa potrei comprare? una frazione della disney neanche niente va a sentire un po' povero anche lui c'è il suo boro ma la cosa più interessante era proprio vedere che vendeva anche azioni normali tesla chiaramente solo quelle più gettonate ovviamente perché le azioni delle società più tradizionali nel mondo crypto non sono nemmeno considerate ecco qui il DAO allora quasi tutti questi siti in particolare dov'è? in particolare Curve ma anche tanti altri danno tra le varie cose che vi danno danno anche un token che promette di accedere alla governance e non sto scherzando alla governance dell'azienda Curve particolare e la trovate sotto DAO la parte di governance di Curve questa interfaccia è vomitevole ok ma in realtà mi piace anche abbastanza ecco qui ma uno da cui si capisce un po' di più come è strutturata la governance è Anchor che è un sito di lending vedete Anchor ha proprio qui scritto govern se voi avete i suoi token che sono gli Ankh ok oltre a darvi un potete metterli in stake per fare la governance quindi vuol dire che proprio sedete in un'assemblea permanente della loro azienda l'azienda ha lo smart contract e potete prendere decisioni sullo smart contract se non mi credete guardate qua sotto al momento è in corso la votazione per Redirect Portion of Borrow Incentives cioè per cambiare dove vanno gli incentivi dei borrower al momento hanno votato 0,59% sì 0,18% no il quorum è il 10% e ovviamente la maggioranza deve essere sì vogliamo vedere le votazioni vecchie eccole qui c'è neanche qualcuna non sono tutte dei plebisciti c'è neanche qualcuna che ha votato no ah queste qua sono quelle passate ok c'è ad esempio Increasing the Capital Efficiency on Anchor questo per adottare Beth come collaterale è passata qualcuna non è passata ok giusto farai vedere che non è eccola qui questa ad esempio Disable Meme Dejenbox che non so neanche cosa sia Compensate User for Liquidation Bug c'è un barco nel 9 dicembre 21 la gente ha votato per non compensare gli utenti e ecco quindi si partecipa alla governance e potete mettere in stake vuol dire che potete partecipare alle votazioni potete anche proporre votazioni io sulla rete di test ho provato a proporre una votazione di regalare soldi a tutti e l'ho votato sì solo io ogni volta che proponete una votazione dovete bloccare 1000 dollari che poi vengono falciati se la votazione non ha successo cioè se passa il no ok potete anche scambiare i token di governance ad esempio magari a voi i token di governance non interessano e li vendete quindi diciamo voi partecipando a questo earn and borrow in particolare al borrow ottenete dei token di governance che vi rendono azionista della banca presso la quale avete un prestito queste azioni potete farne varie cose potete prestarle a qualcuno potete che voterà per voi ad esempio però vi darà un interesse potete metterle bloccarle nell'azienda che tra l'altro vi dà il 26-77% di suo e potete partecipare alle votazioni dell'azienda tutto giustito da smart contact quindi questi sono l'esempio di DAO Decentralized Autonomous Organization delle organizzazioni che sono autogestite quindi molti di questi contratti sono autogestiti chiaramente le modifiche che si possono fare sono di solito sui parametri tipo vogliamo fare dare questo modificare questo parametro modifiche radicali necessitano di qualcuno che programmi lo smart contract di nuovo ecco qui e ultima cosa di questo set di cose assurde è le assicurazioni andiamo su Nexus Mutual vediamo se si capiscono esistono assicurazioni decentralizzate no non voglio pagare la membership fee non ho nessuna intenzione buy comer ok ecco qui assicurazioni esatto assicurazioni ad esempio io uso Anchor che è quello che vi ho fatto vedere prima ho paura che vada a gambellaria dov'è l'assicurazione su Anchor Anchor eccolo qui ecco vedete no capacity available vuol dire che la gente si è presa tutte le polizze perché hanno quant'è limitata di polizze perché anche qui hanno bisogno di liquidità hanno bisogno di gente che gli metta dentro dei soldi e li mette assicurazione per assicurazione quindi si vede che questo yearly cost il 260 è troppo poco e sono andate a ruba queste polizze quindi a differenza di una compagnia tradizionale ha un numero di polizze limitato vediamo se mi dicono come funzionava no vediamo se ad esempio io volessi proteggermi da ecco da questo curveset bla 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 vediamo cosa succede ok in questo modo mi proteggo coverste e crv tokens ok cos'è che mi mi copre ah se si depegga ah questi qua sono dei token che dovrebbero riflettere il crv se si depegga di più del 10% vengono coperto ok e come vengono coperto beh innanzitutto devo dire quanto quant'è il mio massimale io metto massimale 10 ether voglio la copertura per un anno ok vedete che pagherei 0,3644 ether ok hanno 2746 ether di capacità quindi ce la fanno a coprirmi pagherei 0,3644 ether sono coperto fino a 10 ether per un anno da questo evento qui che non ho sì ho capito cos'è ma non è rilevante per la mia vita e per quello non diventerò un loro membro e sono protetto da questo evento qui e come fanno a stabilire che l'evento sia verificato beh ci sono alcuni eventi che sono automatici e questo per si è automatico se si depegga loro vanno a guardare gli smart contract perché questo è tutto città di smart contract non c'è dietro un omino dell'assicurazione non c'è dietro il perito periti sono periti o lo smart contract se ne accorge da solo se invece c'è un altro evento per cui lo smart contract non può accorgersene diciamo un po' più legato alla vita reale di solito è difficile che escano dalla vita crypto però ci sono eventi più legati alla vita reale ad esempio che lo smart contract abbia un baco e quello è un evento legato alla vita reale allora in questo caso io devo file acclaim dove c'è da qualche parte il tastino per chiedi risarcimento mando la documentazione che verrà caricata su un certo sito web gli azionisti del nexus mutual che sono persone che hanno dato soldi posso farlo anch'io posso anch'io invece che buy cover faccio stake e divento azionista sì vabbè bla 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 ok gli azionisti tramite la pagina di governance votano se pagarmi o no qui ci sono un po' di voti diversi però votano anche categories vediamo se c'è asset details pool pool no 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 ok claims potrebbero essere ecco qui vedete ad esempio qualcuno ha chiesto 12 ethereum per un problema con cream v1 e gli azionisti hanno votato accepted qualcuno ha chiesto di ricevere 300.000 dai che sono 300.000 dollari per un problema su abacadabra e gli hanno detto pippe ora gli azionisti votano chiaramente gli azionisti sono portati a fare denied sempre però se fanno sempre denied nessuno compra più le assicurazioni quindi sono portati a votare sempre in modo diciamo corretto ad esempio andiamo a vedere perché gliel'hanno bocciato ah ma non c'è tutta la tiritera sì forse boh non so non vedo la tiritera comunque pubblichi sono pubblichi i documenti e quindi dovrei riuscire a vederli non riesco a vederli o non mi si caricano o bisogna andare da quella parte per vederli comunque tutti i documenti sono pubblici e a questo qua gli hanno dato proprio una votazione massiccia a questo qua gli hanno denied perché poverino beh 500 non poco ok come vedete comunque danno i premi cioè danno i risarcimento ecco ovviamente a me non li fanno vedere perché non sono uno degli azionisti boh comunque ecco di assicurazioni così ce ne sono una sbalangrata al solito unslashed questo qua vi assicura se avete dei soldi in staking e rischiate che il vostro validatore venga slasciato quindi io ho dei soldi in staking su ah no usdt peg quella se mi si depega usdt che è quello che ho sempre temuto io potrei coprirmi per 20 header alla faccia e alla 0,1405 quindi se avete paura che si depeg usdt vi coprite con 20 header se poi oltre ad pegarsi usdt unslashed va gambe all'aria non vedete neanche più i soldi ah ecco faccio notare che protegge anche da cose del mondo diciamo fuori cripto so che per molti coinbase non è fuori cripto ma è fuori cripto perché è un exchange ormai normalmente quotato se coinbase va gambe all'aria ecco che loro e loro vi proteggono e dovete leggervi ovviamente i documenti appropriati cos'è che è assicurato eccetera eccetera cos'è che è assicurato ok what's covered loss coinbase centralized exchange loss related to hack a bug a large case third party theft insider collision politica o regulation event quindi addirittura il mondo cripto si assicura contro l'intervento dei regolatori e questa veramente ah no ah si si ci assicurano contro l'intervento questa è bellissima assicurati contro l'intervento dei regolatori bene e non direi di non approfondire oltre perché già penso che molti siano morti quando ho iniziato a parlare di auto compounder e questo addirittura è un sito e beh questo devo farvelo vedere è un sito che raccoglie azioni per la governance di curve per poter avere la governance su curve vedete crv vote incentives voi potete dare i vostri token crv che ricevete in regalo se fornite liquidità a curve lui li raccoglie e così ha più potere di voto e controlla di fatto curve una follia delle follie perché poi ci sono altri siti nati per controllare lui quindi è già successo questo cioè dei siti nati per controllare curve e poi degli altri siti nati per controllare i siti per controllare curve se può sembrare assurda sono 150 anni che la finanza tradizionale fa di queste cose cioè la classica holding che controlla tutte le aziende di famiglia e dopo una piccola società di solito una srl che controlla la holding è un classico di ogni famiglia capitalistica occidentale cioè guardate la struttura degli agnelli è più o meno così quindi non è una cosa strana che ci sia uno smart contract che detiene i token di governance di un altro smart contract nato solo per detenere i token di governance di un altro smart contract diciamo la differenza grossa in questo mondo è che mentre nel mondo tradizionale gli azionisti di minoranza sono tutelati dalla legge qui se sei azionista di minoranza avoli tuoi cavoli tuoi meglio che vendi le azioni e passi a prendere azioni del controllore ok direi di fermarci qui e diamo l'avvio a un vero e proprio serie di investimenti in questo mondo farò una cosa bislacca che adesso vi spiegherò nella prossima parte del video ok passiamo a una prova pratica e per pratica intendo proprio con soldi veri miei e dunque quello che voglio fare è questa cosa qui vediamo questo è Solend e sul sul network di Solana sulla blockchain di Solana io vedo che Solend mi prende gli Ethereum e se io gli do mi da il 3,07 di interesse il che è basso confrontando alle piattaforme di SeFi di Centralized Finance che danno circa il 6 è basso e avrei preferito dargli Bitcoin però Bitcoin mi da veramente poco lo 0,14 quindi io darò a Solana gli Ethereum ok e dandogli questi Ethereum gli dico di usarli come collaterale come collaterale e andrò a prendere a prestito vediamo cosa e andrò a prendere a prestito una stablecoin di quelle che mi costano poco e questa mi costa devo vedere se mi costa il 5,26 o mi da il 5,26 vediamo un po' eccolo qui borrow API 11,45 rewards 6,19 quindi mi costa il 5,26 mi costerebbe l'11,45 di interessi ma poi mi danno dei bonus per prendere a prestito pari al 6,19 quindi mi costa tanto il 5,26 però quindi mi conviene molto di più prendere a prestito gli USDT che mi costa soltanto il 2,29 quindi prenderò a prestito gli USDT e cosa ne faccio degli USDT li convertirò in e USDT perché gli USDT li andrò a mettere dentro Anchor che gentilmente mi dà il bellissimo 19,51 di APY andiamo a farci due conti su quanto questo mi frutta dunque mi frutta sui miei Ethereum il 3% circa dopodiché devo pagare il 2 su metà degli Ethereum che ho messo perché potrò prendere a prestito non tutto non un valore di 1000 altrimenti rischio il default immediato prenderò a prestito 500 circa su quel 500 devo pagare il 2,29 ma ottengo il 19,51 quindi ottengo un 16 ok è sulla metà quindi è come se ottenessi l'8 8 più 3 direi che fa 11 quindi alla fine io ho i miei Ethereum che mi rendono l'11% ora giustamente qualcuno potrebbe dire non ti conviene vendere gli Ethereum comprare direttamente UST e farti il 19% secco beh sì però in questo modo avrai gli UST che è una valuta stabile io invece voglio essere esposto sugli Ethereum perché io spero che nel frattempo questi Ethereum crescano anche di valore quindi io riesco a essere esposto sugli Ethereum a pieno avendo l'11% di rendimento pure di fatto su quegli Ethereum anche se con un giro strano ecco questo giro che già vi potrà sembrare un po' bizzarro io prendo gli Ethereum li metto a qui come collaterale e chiedo in presto degli USDT li scambio per USDT e li metto su un'altra piattaforma è reso ancora più complicato da altri fatti il primo fatto è che questo è Solana questo è Anchor quindi gira sulla blockchain di Terra quindi questo gira sulla blockchain di Solana e questo di Terra e in più io i miei soldi dove ce li ho? ce li ho qui su Terroco eccoli qui ce li ho in Bitcoin su un exchange italiano che assolutamente non promette i prelievi in Ethereum né men che meno sul blockchain di Solana quindi il mio piano di volo è il seguente e vediamo se riesco a farlo tutto ieri l'ho fatto con una piccola cifra e mi sono incasinato quattro volte vediamo se stavolta con questa cifra qui che sono circa 1500 euro riesco a perdere il 1500 euro nei meandri di qualche oscura blockchain prendere questi Bitcoin ho chiesto a Terroco Trading il promesso di prelevare Bitcoin bisogna chiederlo esplicitamente se qualcuno di voi avesse l'account stia attento e lì mi sposterò su Binance che è questo questo è il mio Binance ok qui su Binance comprerò degli Ethereum ok e gli Ethereum li sposto sulla blockchain di Binance vedete perché non direttamente sulla blockchain di Solana eh eh perché Binance non fa spostare Ethereum sulla blockchain di Solana gli sposto sulla blockchain di Binance dopodiché devo spostarli in Ethereum sulla blockchain di Solana per questo utilizzerò un allegro bridge eccolo qui no mi sono perso eccolo qui questo qua che fa il bridge quindi fa spostare l'Ethereum da una blockchain all'altra nel mio caso è esattamente il contrario di quello che c'è scritto qui ecco questo è quello che devo fare ok e non sposterò a PUST ma F ok il problema è che mi dà ABF e non proprio F però lui mi dice ciccio swappatelo su Saber quindi dovrò andare su Saber convertire gli ABF in F a questo punto ho gli F andrò se riesco a andare non riesco a andare neanche adesso figuraci dopo andrò su Solend finalmente con i miei F li metterò con il laterale saranno tutti contenti chiederò in presto gli USDT gli USDT tornerò sul bridge di prima che è questo dove bridge 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 di prima converterò gli USDT in USD e finalmente gli USD farò un altro passaggio perché gli USD li devo spostare sulla blockchain giusta e finalmente gli USDT sulla blockchain giusta li metterò qui a earn ok peraltro questi mi danno degli altri token che io potrei anche far fare un altro giro bislacco a questi altri token ma eviterò di farlo perché altrimenti già vi assicuro che per fare tutto ciò immagino vi siate completamente persi perché saranno almeno 6-7 passaggi ecco vediamo di farli piano piano uno alla volta allora primo passaggio da Teroctrading devo spostare bitcoin su binance perché Teroctrading non mi permette di prelevare ethereum ok faccio notare che in tutti questi passaggi c'è una cosa che io sto cercando di evitare come la morte di avere cose sulla blockchain di ethereum quindi anche gli ethereum non li avrò sulla blockchain di ethereum perché ethereum in questo momento con i suoi ebay 30, 50, 80 dollari a transazione ma rameo che io passo per la blockchain di ethereum uso le altre che a transazione mi chiederanno un dollaro ok quindi Teroctrading vado su binance attenzione prima su binance devo fare deposit vediamo se binance mi fa depositare bitcoin perché magari salta fuori che non me lo fa fare ahia già vedo che btc no e se ah deposit crypto eccolo qui no non voglio depositare erro caro binance voglio depositare crypto oh select coin select network eh io purtroppo la blockchain è la sua ok mi dice depositalo qui eseguo immediatamente e ok benissimo andiamo qui wallet no si no withdraw sell currency bitcoin proceed ok amount tutto ok il mio indirizzo non è per coletti ma magari anche se non fai vedere le mie password ok ecco che mi ha accettato la richiesta e niente dovrei vedere questo indirizzo sulla blockchain quindi blockchain explorer btc vediamo se è arrivato qualcosa c'è eh teoc trading non l'ha ancora spedito devono di solito le mandano in batch cioè le mandano un blocco e le mandano assieme quindi adesso poi ci vorranno almeno due conferme mi dice binance vuole due conferme quindi ci vorrà almeno mezz'oretta qui prima di che arrivino quindi ci vediamo tra mezz'oretta ecco è passato come si vede qui una conferma forse ha preso anche la seconda adesso una conferma ancora solo vediamo binance binance me lo dovrebbe dare no non ancora rinfresco binance ecco qui una notifica su binance ha perso la notifica costitiva notifica è depositato 0.436 bitcoin un minuto fa eccoli qui sono arrivati benissimo annulliamo la notifica se no binance mi te ah ho capito va bene parte 1 trasferire i bitcoin da terock trading a binance effettuata e ok abbiamo questi bitcoin allora adesso è iniziato con convertigli in ethereum e andiamo a convertigli in ethereum su binance ci sono 274 modi per convertire io faccio converto che non ho voglia di mettermi a fare trade allora tre ore di flip flop perché mi dici usdt se bitcoin grazie ethereum vabbè tutto ma vediamo 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 mi piace perché mi è apparso questo a e d come se mi interessasse il dirham degli united arab emirates giuro che non l'ho mai comprato adesso possiedo l'ethereum oh benissimo parte 2 scambiare su binance i bitcoin per ethereum effettuata li prelevo e attenzione qui viene il casino di solito perché devo prelevarli sulla blockchain di binance perché ho provato a prelevarli sulla blockchain di solana mi ha fatto un casino ma li ha dati in un altro tipo di ethereum perché purtroppo questo è il blockchain della defi tutti chiamano gli ethereum ethereum ma gli ethereum sono dei veri ethereum solo quando sono sulla loro blockchain quando sono sulle altre blockchain sono dei rapid ethereum quindi dei token di fatto ospiti e ce ne sono più di uno di token che si chiamano ethereum sulle altre blockchain quindi viene un bordello e allora withdraw allora mi sono fatto l'address book per evitare di sbagliare e vediamo vediamo se voglio withdraw gli ethereum ok c'è questo qui sulla binance oh queste domande ok ho capito ho capito no so tutto grazie ok ho capito bene me li sono poi levati sulla binance blockchain ok 0x812 è il mio indirizzo sulla binance blockchain ok controlliamo perché non vorrei mai che 1500 euro finissero all'illustre sconosciuto comunque penso proprio di sì la password è pippo pippo per chi la volesse sapere questa è metamask direttamente sulla binance smart chain ok 0x8801 si è lui benissimo tutto quanto bene va 3 2 1 via anzi non è così semplice perché binance quando oltre a 100.000 conferme che ho capito tutto mi chiede attenzione a cosa mi chiede un codice per email un codice per cellulare e il google authenticator della serie siamo sicuri sicurissimi ah tra l'altro se sono aumentati è perché mi sa che mi sono portato dentro degli altri bitcoin che avevo su binance per fare delle prove mi spiace ma da questo momento in poi nel video mi sono arrivate maledetto programma di registrazione due brutte righe lampeggianti se riesco nell'editing almeno faccio in modo che non siano lampeggianti però ve le beccate comunque tutte e due davanti mi spiace mandati sulla binance smart chain vediamo se sono arrivati betamask che gestisce sia la blockchain di ethereum ma anche tante altre assets ok mi sono arrivati non come bnb giustamente ma come token sulla binance smart chain quindi questi ethereum non sono la valuta della binance smart chain ma sono dei crypto token di fatto notare che nei passaggi vedrete che saranno sempre di meno questi qui parte 3 spostare gli ethereum da binance alla binance smart chain come ethereum token sul mio wallet effettuata ok il mio scopo è farli arrivare qui su solana perché voglio metterli qui allora vediamo un po' come fare a spostarli ce li ho sulla binance smart chain devo metterli su solana quindi all bridge allora invertiamo dalla binance smart chain a solana choose assets ethereum benissimo devo binance smart chain a solana ethereum connettere il primo wallet che è quello di della binance smart chain eccolo qui si si sono io che ho le private keys tutti quanti grazie l'ha individuato pagherò la solita fee ok e approvo e a questo punto questo sito misterioso allbridge.io si impossessa dei miei ethereum e spero che non se li freghi definitivamente approve ok metamask mi chiede di approvare esplicitamente attenzione quando fate queste by granting permission io voglio controllate che sia un permesso limitato esatto questo qui non mi sembra limitato ma mi sembra illimitato col cavolo che glielo do illimitato mi prendo esattamente quello che serve e glielo metto limitato questo è molto importante ok io gli do il promesso limitato e non a tutti gli ethereum che ho perché c'è gente che è stata fregata in questo modo ok quindi io confermo di dargli il promesso di prendersi questo ethereum ma limitato se guardate il limitato poi non serve più che ve lo chieda ma voi avete dato potente la firma sul vostro ethereum a qualcun altro a vita adesso è pending sospendo come al solito ecco mi ha dato immediatamente la transaction confirmed ok faccio send ah scusate send dove devo mandarli devo mandarli su solana solana usa un altro wallet eccolo qui è phantom la mia password la mia password ogni volta che la digito non funziona speriamo questa volta sia giusta eccola qui mi prendo l'indirizzo copy to clipboard su su quanto ci vuole a scannerizzare una blockchain ok è solana siamo sicuri benissimo proprio su clipboard ok me lo metto qui ok te address incorrect non è vero mando tutto grazie veramente fastidioso che dica che l'indirizzo non è corretto quando invece lo è per fortuna ho fatto la prova con pochissimi soldi prima ok mi dice se voglio interagire con lo smart contact questa volta sì non devo dare promessos ok transaction is pending al solito sospendo il video ok il blockchain di solana veloce sta già già preso una conferma posso fare un connect wallet no vediamo se mi è arrivato qualcosa qui ah one more step sì connect wallet è phantom ok ah devo pure dire che ha sì perché questo qui vuole la conferma di riceverli cioè non si possono ricevere siccome sono accorti che ad esempio sul blockchain di ethereum potre mandare token alla gente a cavolo anche se non li vogliono si chiama airdroppare token a tradimento allora su certe blockchain dovete dare l'assenso per ricevere token ecco qui avremo eccoli qui parte 4 brigiare gli ethereum dalla binance smart chain agli abf token sulla blockchain di solana effettuata l'unica cosa l'unica cosa non è proprio unica vedete sono gli abf ok lui mi dice subito guarda swappali su saber vabbè passiamo per saber swappiamoli su degli eth swappali su saber è lo swap eccoli qui me li swappo su eth e connetto il mio wallet si si è phantom è sempre lui sono adesso la blockchain di solana ho degli abf che voglio convertire in eth ok e dovresti ciccio dovresti vedere automaticamente che c'è gli abf eccoli qui ok ciccio se ne accorto ok stavolta miracolosamente non sto perdendo pezzi ma sto guadagnando pezzi per strada miracolo approfittiamone subito e review tutti questi passi io li ho già fatti con numerosa fatica e mandando i soldi a cazzo su blockchain che non c'erano assolutamente niente per quello adesso li faccio snelli e tra l'altro il video lo faccio soprattutto per me perché così so quali sono i passi da fare per fare tutta sta tiritera phantom wallet vuole che approvi la transazione ok sono all'interno della stessa blockchain quindi è molto più snello adesso questo passaggino e sono sempre rapid ever ma sono su wormhole che sono quelli che voglio parte 5 swappare gli AB ethereum token sulla blockchain di Solana per degli altri ethereum token sulla blockchain di Solana effettuata se vi state chiedendo perché ci sia più di un ethereum token sulla blockchain di Solana è perché è decentralizzata cioè ognuno che vuole farsi su ethereum token se lo fa ok e adesso li devo mettere qui sperando che siano quelli giusti perché non so mai vedo tra l'altro che Sabre mi rifila delle sue cosacce qui di valore infimo benissimo ok adesso ma sono aumentati nel frattempo 2000 dollari mi piacciono questi scambi assurdi che consumano commissioni ma mi fanno aumentare i soldi adesso li deposit su Solend allora Solend vado a fare deposit dove si farà mai deposit premo eth perché sono quelli che voglio depositare e connecto il wallet sono sempre sulla blockchain di Solana ok hai visto che ce li ho non voglio borroware ma voglio enter a value max oh sei accorto che ce li ho ottimo non è stato facile ve lo dico capire esattamente quali ethereum voleva che non voleva quegli altri ma questi ok io adesso gli mollo 2000 dollari di ethereum mi piace perché nel frattempo sono aumentati passaggio passaggio supply confirm transaction in wallet se il wallet apparisse grazie sto appena ma sto mandando in questo momento 2000 dollari a un sito sconosciuto ma tra l'altro c'è uno smart contact dietro quindi non è proprio un sito questa è l'unica cosa che mi dà un attimo di sollievo ecco fatto done e adesso io non ho più niente qui vediamo penso che se qualcuno è riuscito a seguire fino ad adesso i passaggi che ho fatto direi è il master degli smart contact e della defi perché adesso passiamo anche a terra attenzione che tra un po' e vorrei controllare che siano andati via i soldi certo che solana sarà veloce come blockchain ma il suo wallet è di una lentezza esasperante stoppiamo ah no ecco qui e ok non ho più niente benissimo vediamo se magari ce l'ho qui allora non mi dice una mazza ecco pool position io ne avevo già messi degli altri per quello non è che nel frattempo sono aumentati gli altri 100 misteriosamente ne avevo già messi degli altri e avevo già preso a presto 70 dollari per fare un esperimento parte 6 depositare gli ethereum token quelli giusti su solend come collaterale effettuato quindi adesso passo a prendere a prestito prendo a prestito la cosa che conviene di più e vedo che nel frattempo questo conviene un pelo meno mannaggia ieri era molto più conveniente e no devo prendere per forza a prestito devo prendere una stablecoin non c'è verso dai ok ce l'hanno no non ce l'hanno le stablecoin sono questa queste tre e di queste tre quella che conviene è questa quindi prendo a prestito questa anche se questa è poco diversa ma è uguale prendo a prestito gli usdt ok vado su borrow tra l'altro mi darà degli usdt sulla rete solana allora attenzione se io provo max questo è il massimo degli usdt che posso prendere ed è una follia perché c'è qui c'è l'on to value che è 75% all'80% vengo liquidato ok e io al momento sono ok e sto utilizzando quasi tutto il mio quindi diminuiamo di molto ok 1100 posso permettermelo anzi stiamo un attimo più conservativi ancora 1050 ok quindi la metà come abbiamo detto e faccio borrow quindi prendo in prestito adesso faccio notare che io gli ho mollato 2000 dollari di ethereum sto prendendo più di 2000 dollari perché c'erano già un po' di 2100 mi prendo in prestito 1050 usdt approvo ecco qui ciccio te l'ho provato me li me li dai notare che in una banca entrate dite bene voglio un prestito cambiate idea quattro volte dopodiché dite ciccio me li dai vorrei vedere vediamo se me li hai dati ecco qui pagavale mi han dato 1000 dollari sull'unghia senza batter ciglio vediamo se mi sono veramente arrivati non è finito il calvario perché adesso ho 1000 dollari in usdt sulla rete di solana devo convertirli in usdt sulla rete di terra quindi devo cambiare blockchain e cambiare valuta eccoli qui sono 1000 dollari usdt parte 7 ottenere un prestito in usdt token sulla blockchain di solana da solend effettuato questi potrei spendermeli di espandermeli certo poi mi falciano il mio collaterale allora adesso attenzione devo andare prima su saber e convertirli io ho usdt eccolo qui lui mi ha subito beccato e voglio convertirli in at ust eccoli qui perché poi sul bridge converterò gli at ust con altri due passaggi perché non ci si fa negare niente benissimo tutti grazie ok sono all'interno della rete solana quindi siamo a posto va bene confermo lo swap e all'interno della rete solana adesso questi belli at ust quanti passaggi ho fatto 6 7 almeno tutti da segnare perché all'inizio delle entrate considero ognuno di questi passaggi come un trade vediamo se ho i miei at ust ecco quindi eccoli qua sono wrap e 2st for all bridge ok quindi sono belli pronti ho anche questo dollaro che mi è rimasto qui pendente parte 7 convertire gli ust token in a ust token sulla blockchain di solana effettuato e benissimo adesso su all bridge di swoppo con ust su terra allora da solana a terra choose asset at ust ok poi devo swopparle di nuovo ok connect wallet iniziamo con partire da solana benissimo tutti grazie la fee dove la pagherò la pagherò in at ust speriamo che me l'abbia considerata 3 dollari mica poco send devo mandarli all'indirizzo di terra questo è il mio terra station è la blockchain terra mi copio ok e me li metto qui ok indirizzo di terra iniziano con terra giustamente send ok approvazione del wallet phantom sulla blockchain di solana approve ok la transazione sta pendendo sospendo un attimo ecco che sta prendendo una marea di conferma devo dire la differenza del suo wallet del blockchain di solana va spedita fatte 32 32 posso connettere il wallet terra per riceverle all'inclina mi è possibile sì grazie ecco qui connect wallet terra station ok le file pago in ma io voglio pagarle in luna le figure guarda un po' terra come sulla criptovaluta luna e le pago in luna e ok le ricevo il doppio passaggio è necessario perché sto su due blockchain diverse terra station ok la password ok è partito per la luna ok 3 2 1 contatto ok ricevute su terra station controlliamo che siano arrivati lì gli fa passare la voglia tutti questi passaggi e ok sono questi sì non devo svuopparli sono arrivati direttamente come ost miracolo esattamente quello che volevo no non voglio svuopparli temevole doverli svuoppare e questi aust sono tutta un'altra roba non guardateli o meglio li scoprirete adesso cosa sono parte 8 brigiare gli aust token dalla blockchain di solana alla blockchain di terra dove si chiamano ust effettuato ok mi sono arrivati finalmente questi bellissimi ust e adesso finalmente posso metterli a rendita su anchor vado su anchor connetto il mio wallet adesso vedrete quanti ne ho già in possesso sono già messi lì 4.000 ma non chiese a prestito questi sono i miei sudati risparmi tutti i miei sudati risparmi io faccio deposit ok tutti e c'è sempre questa minaccia che mi incombe anche se io ho il 1 in realtà beh dai 1 in meno ok qui la transaction fee è 70.025 devo dare l'approvazione su terastation vedete anche le differenti sicurezze terastation mi chiede la password ogni volta e lo sbaglio puntualmente mentre invece metamask e phantom no ok e abbiamo fatto la pazzia di chiedere un prestito e mettere il prestito dentro un'obbligazione da un'altra parte ecco qui come faccio a dimostrare di avere questo prestito beh mi hanno in realtà loro lo spacciano per prestito ma in realtà dal punto di vista tecnico non è un prestito perché loro mi hanno gentilmente donato in cambio degli UST che gli ho dato mi hanno donato questi AUST che adesso vedete sono aumentati erano circa 3.000 prima ok questi AUST è la criptovaluta di Anchor il crypto token di Anchor e loro fanno in modo che il suo valore aumenti del 19.58% all'anno quindi loro mi garantiscono che se io faccio Withdraw adesso quegli Anchor che ho depositato valgono un pelo di più beh in questo istante quelli che ho appena depositato no ma ma comunque domani se dovessi tornare qui vedrai che i miei Anchor non valgono più 5.666 ma 5.670 probabilmente ed ecco infatti la registrazione fatta il giorno dopo vedete io con gli stessi AUST che avevo ieri adesso ho 5.669 2.95 e vuol dire che questi AUST adesso sono aumentati di valore valgono 5.669 parte 9 depositare gli AUST su Anchor e ottenere gli AUST che rappresentano il mio prestito effettuato e compito finito e ecco qui i miei 5.669 mi promettono un interesse di 1.100 dollari all'anno e questo il tutto avendo dei soldi investiti in realtà in Ethereum perché il loro collaterale è in Ethereum dall'altra parte una cosa che è molto molto importante da fare quando si fa un'operazione rischiosa del genere è calcolare qual è il valore di Ethereum per il quale si verrà liquidati per il quale si andrà in default per il quale collaterale non basterà più allora qui ho approntato un foglio Excel mi sono segnato il prestito Solend il mio collaterale depositato ho depositato 0.7358348 Ethereum la valuta perché la valuta è assegnata perché io normalmente questo cambio non lo metto a mano come ho fatto qui ma lo calcolo ovviamente sta in una tabella che tira giù i dati automaticamente da CoinMarketCap eccetera eccetera non è che ogni volta manina e questo è il valore del mio collaterale al momento l'ho espresso in erro se vi dà fastidio potete esprimere in dollari l'importante che esprimete in dollari poi è anche quest'altro questo io l'ho schiamato long to value ma non è esattamente il long to value ed è il valore a cui vengo liquidato questo è il borrow quanto ho presa prestito la valuta il cambio un dollaro vale meno di un euro ed ecco il controvalore è presa presto quindi ho presa presto 988 euro e ho un un collaterale di 1942 la percentuale vedete la percentuale è ovviamente la colonna Z diviso la colonna U ok ho un 52% di percentuale al momento quindi sono ampiamente entro il limite che è l'80% qui mi sono promesso anche per gli amanti di Excel ho visto che c'è qualcuno di mettere la formatazione condizionale eccola qui per gli amanti di Excel da 0.3 a 0.3 è verde a 0.65 è gialla a 0.8 diventa rossa eccolo qui infatti se per caso il cambio di Ethereum collasse a 1.500 eccola è diventata rossissima collasse a 1.700 eccolo rossa a 1.900 ecco l'arancionina ecco rimettiamo tutto com'era ok questo è il prezzo a cui mi fa fare default e il prezzo a cui io vado in default ed è calcolato in questa formula mi sono risolto un'equazione di primo grado roba da terza media ok e mi sono trovato il prezzo che fa fare default se volete la formuletta Z quindi il valore del collaterale diviso aperta parentesi il valore del del scusate Z è il valore del prestito diviso il valore della collaterale per la percentuale accontata in default comunque ho fatto una equazione di primo grado roba da terza media quindi vuol dire che se Ethereum arriva a 1.678 io vado e vengo liquidato se scende sotto questa cifra e qui mi sono permesso anche di mettermi quanto manca quindi vuol dire che se Ethereum adesso dumpa del 36% io sono slasciato se non sono slasciato sono liquidato è una cosa un po' diversa e diciamo che 36% può succedere che dumpa del 36% in un giorno solo sono abbastanza tranquillo se questo arrivasse a 10% non sono per niente tranquillo perché Ethereum 10% in un giorno ci sono stati certi giorni in cui l'ha fatto 5% non sarei per niente tranquillo in casi come questi quindi se Ethereum scende col cambio USDT non può salire col cambio quindi sono abbastanza tranquillo se Ethereum scendesse col cambio oppure se per qualche motivo gli interessi su questo prestito salissero quindi questa cifra borrow mi sale anche se in realtà io non li ho presi perché gli interessi fanno salire questa cifra e in questi casi io devo rifare la trafila urgentemente veloce veloce e andare a depositare altri Ethereum o un'altra criptovaluta qualunque su Solend Solend accetta anche depositi in altre criptovalute oppure dovrei andare su Anchor togliere degli USD che stanno ne earn fare la strada ritroso e ripagare parte di questo prestito ecco un'operazione che spero di non dover mai fare avendo scelto una percentuale del 50% che stiamo ampiamente sotto l'80 avrei potuto spingere anche un po' di più e anche un 60% avrei potuto spingere speriamo poi vedremo in futuro il video è finalmente finito nessun premio a chi è arrivato fino in fondo se non la conoscenza di come fare il 700% in un anno garantito ecco ribadisco però il disclaimer fatto all'inizio ci sono rendimenti a tre cifre sono rendimenti a tre cifre perché il rischio è a tre cifre ci sono anche perché ci sono forti barriere all'ingresso nel senso che se non avete le competenze tecniche questi passaggi non riuscite a farli ma sono rischi e sono rendimenti così alti perché il rischio è alto è alto il rischio che vada a zero di liquidità qualche liquidity pool di swap o ci siano degli attacchi malevoli ben congegnati insomma c'è il rischio se perdete tutto non prendetevela con me